non sapevo come c'è quel verso lì eh ma è così qua dopo esagerato arrivi subrucciato arrivi subrucciato arrivi subrucciato arrivi subrucciato arrivi subrucciato e che si fanno? certo bastardo è troppo desiderato questo giudici non ci offende? scusate la quarta era qui ma adesso eri in quarta Igaro la terza è un po' caro no non va bene in strada o in quinta o o in quarta al minimo